Hey guys, benvenuti sul canale dei Diamandola Brothers, io sono Jonathan e siamo qui ragazzi di nuovo con NBA 2K16 per la mia carriera Un altro gameplay ragazzi, scusate se settimana scorsa abbiamo saltato ma come sapete eravamo tutti malati a casa, un casino e abbiamo saltato ma oggi siamo di nuovo qui Non ho indosso la maglietta di Michael Jordan dei Bulls perché ho pensato di, come con la serie di Roberto Baggio, di metterla sullo sfondo bella bella così che tutti possiamo vederla e ammirarla Anche il nome e il numero, forse è meglio così Comunque, ritorniamo al gioco, come vedete dal gioco finalmente, come avevo detto, andatevi a vedere i gameplay scorsi se non l'avete visti Come avevo detto, dovevo cambiare vestiti a quel poveraccio di Jonathan che aveva ancora quei vestiti da quando andava al college, sempre gli stessi vestiti Normalmente abbiamo cambiato i vestiti e vedete l'ho vestito un po' rosso, bianco e nero alla Bulls più o meno, i stessi colori dei Bulls Quindi secondo me è figherrimo così, è molto fashion Comunque almeno è diverso adesso, non è il solito Anche se lo vedremo solo qua vestito così perché alla fine nella gara, deve essere sempre con i vestiti della gara A proposito di gare, andiamo a vedere, allora ho fatto un po' di vissi, un po' di monete del gioco per potenziarci Adesso è la prima cosa che facciamo, andiamo a potenziarci Ho fatto 7000 di miglioramenti attributi, possiamo potenziarci a che cose ci potenziamo Tirenza e spensione sicuro 1 Sicuro un Tirenza e spensione ci vuole Pure che spendiamo 2003 Poi marcatore, marcatore da dentro, si facciamo 2, 2 marcatore da dentro Adesso arriviamo, già siamo 72, siamo diventando forti Difensore perché in difesa vado bene, altri 2 Ho rimbalzista, facciamo un rimbalzista Rimbalzista Facciamo allora uno di questo e uno di questo qua Facciamo un altro rimbalzista Ok E playmaker Bene Grande Quando siamo arrivati? 73 siamo 73 Mamma mia ragazzi, siamo diventando proprio forti Guardatela Guardatela Potenziato tantissimo Spero di riuscire a prendere qualche cartellino Che potenzia sempre Successivo, andiamo a vedere Come promesso la volta scorsa faremo 2 partite Quindi giocheremo contro i Toronto E contro i Brooklyn in questo gameplay Perché non ci sono giorni liberi E allora faccio 2 partite Sempre tagliando le scene più belle Quindi possiamo guadagnare 200 partite Partiamo E vediamo come va a finire Speriamo di fare belle partite E niente Vediamo un po' come va Ok Si parte Chicago Bulls contro Toronto Raptors Speriamo di vincere Speriamo di giocare bene soprattutto Ma anche di vincere Vediamo un po' come va Partiamo dalla panchina come sempre Speriamo di guadagnare Di andare bene in questa partita Così da guadagnare altri minuti Da giocare titolare Partiamo Primo rimbalzo Primo rimbalzo Subito, subito Vai, dagliela di là Dai, dai Buttala dentro Buttala dentro Niente Passaggio che porta a fallo Comunque riconoscimento Benissimo, benissimo Si parte bene Si parte bene Un rimbalzo E un buon passaggio Più o meno che stava quasi per andare dentro No L'avevo quasi presa Porca miseria Fermalo 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 No L'ha buttata dentro L'avevo quasi presa L'avevo deviata Mannaggia Vabbè Prova, ci prova Prova a dribblare Passala, passala Che è meglio Grande passaggio Ci prova da tre Grande Grande assist Grande Doppio movimento a canine Non mi aspettavo che tirasse E provasse a buttarla dentro Grande Bene, bene Mi ha dato l'assist Vai di nuovo in attacco Vai di nuovo in attacco Di nuovo sulla fascia Dalla mega, dalla mega, dalla mega Medio Proviamoci da tre Siamo da soli No Non è andata dentro Però mi ha dato buona scelta Tiro Cioè dovevo tirare per forza Fermiamolo, fermiamolo Va bene, va bene Stiamo vincendo di cinque punti Stiamo andando abbastanza bene Non ci lamentiamo Potevamo fare di più forse Però va bene Grande smarcamento Passa e chiela Grande serie di passaggi Buttatela dentro No Perché non la buttate dentro Fate come me Che tirate sempre da tre Proviamoci da tre di nuovo E la butta dentro La butta dentro da tre Grandissimo E sono i primi tre punti Grande, grande Iniziano ad entrarci da tre Dai Allora mi ha dato un obiettivo Guadagno tempo sul cronometro Servono tiri intelligenti Quindi devo guadagnare tempo Devo fare solo tiri intelligenti Speriamo di riuscire A mantenere Chi è che sto l'allenatore Grande passaggio Vai Siamo pazienti Siamo pazienti Facciamo i passaggi Dalla me Perdiamo tempo Perdiamo tempo Bravo Vattene con calma Facciamo quello che ha detto L'allenatore Grande serie di passaggi Buona spaziatura La butta dentro Grande, grande E' proprio musica Per le mie orecchie Grande Dalla a me Dalla a me Proviamoci Dai adesso sto in attacco In contropiede Dovevo segnare Dovevo segnare per forza Non potevo perdere tempo Eh, eh Siamo a cinque punti Grande Tagliela Buon passaggio Bene Dalla di nuovo a me Andiamoci di lato Vai di là Dalla di nuovo a me No, no Grande Va dentro Va dentro Tutto anche io dentro Grande Buona spaziatura Perfetto Perfetto Buon movimento Palla Stiamo giocando bene Spero che l'allenatore Sia contento di me Che riesco a fare l'obiettivo Proviamoci di nuovo Proviamoci di nuovo Pazientiamo Pazientiamo Buon passaggio Dalla di nuovo a me Vai proviamoci a buttare dentro Proviamoci con una finta Puttiamoci dentro Buttiamoci dentro E la butta dentro Grande Grande La butta dentro Riesci a driblarli E sono sette punti Ragazzi comunque se inizia a farsi Adesso si vede proprio la differenza Del potenziamento del giocatore E inizia a farsi troppo facile Perché il giocatore è diventato troppo forte Aumentiamo la difficoltà Io vi dico quando aumento la difficoltà Se inizia a farsi che divento titolare Faccio troppi punti a partita Riesco a fare sempre buone giocate Aumentiamo un po' la difficoltà Così diventa di nuovo Che sbaglio qualche cosa Faccio bene qualche cosa Perché altrimenti Fare sempre belle partite Eppure noioso Farlo passare Non farlo passare Ragazzi Stiamo vincendo di pochissimi punti Speriamo di vincere la partita No Io l'avevamo quasi tolta Vai sbaglia Sbaglia No Ma perché non sbagliano mai Questi strupidi Stiamo vincendo solo di due punti Speriamo Siamo al terzo tempo Al terzo quarto Speriamo di non fare strupidate E di riuscire a vincere Dalla a me Proviamoci da tre Vai da tre Vai Facci dentro da tre Grande Grande Grandissimo E porta in vantaggio la squadra Cinque punti Grande Proviamo a inserirci Proviamo a inserirci Che è tutto libero No Stavo facendo la schiacciata Me l'ha presa Quella Mi ha fermato Però è andata lo stesso dentro Grande Grande Altri due punti Dodici punti Ormai i punti Li facciamo Alla grande Speriamo di fare pure il migliore in campo Dai la prossima partita Mi sa Il prossimo gameplay Aumentiamo la difficoltà ragazzi Perché Perché sta diventando troppo facile Potenzio Un altro poi ti direi da tre Li faccio pure da centrocampo Vai in attacco Vai dai La stanno solo là davanti Stanno proprio lì Solo davanti Due di loro addirittura Davanti al canestro proprio Jonathan Ce la fassi Ce la fassi Grandissimi Ormai abbiamo vinto Li abbiamo distanziati di un sacco Ragazzi Perché mi ha fatto uscire Gli altri hanno fatto secondo me Scaricata di punti Quindi è vittoria Quasi Eeeh Grande recupero Grande Andiamo a schiacciare Andiamo Andiamo a schiacciare Vediamo se ci riusciamo Eeeh Grande Registrate Il canestro consecutivo Realizzati Ruba la palla E segna in contropiede A meno Stiamo Mamma mia Che partitone Che partitone Grandissimo Grandissimo Quindi è andata la grande Questa partita E speriamo di riuscire ad arrivare I playoff La verità Ci spero Ci spero Grande No No Convinto che stavamo andando in contropiede Ho lasciato quello dietro Gli ultimi 19 secondi Vai Segniamo all'ultimo secondo Vediamo se ci riusciamo Guardiamola tutta Fino da qua Proviamoci da 3 No Dribliamo Passiamo Dalla di nuovo a me Grande E ci proviamo da 3 Vai Oh Schifezza di tiro E non ci va dentro infatti Grande Perché ho sbagliato Doveva tenerla di più Vabbè è finita È finita Grande 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 partita Si vede che il giocatore Sta diventando abbastanza forte Credo ragazzi Che questa serie La faccio finire Con il titolo dei boost Se riusciamo a vincere il titolo Con il campionato Perché Vogliono un sacco di partite E poi perché voglio fare Anche un po' le sfide Infatti domenica prossima Vi dico già Che ci sarà una sfida Per non fare sempre la carriera Perché avevo promesso Il ritorno a delle sfide Allora Discreto A meno Soddisfazione allenatore B Bene Bene Grande Joachim Noah Vediamo se siamo il migliore in campo Altrimenti andiamo direttamente Alla prossima partita Allora Non sono stato io il migliore in campo Purtroppo Va bene Allora Ho fatto 14 punti 3 rimbalzi 2 assist E una palla rubata 9 minuti Già mi inizia a far giocare 9 minuti Quindi Bene Andiamo a vedere un po' i commenti Sui social E poi partiamo Con la prossima partita Cartellino sbloccato Ispiratore Grande Mi avevo sbloccato un cartellino Grandissimo Allora Vediamo un po' cosa dicono Sui social R3 Allora I miei feed Mi manchi Freak Ci vediamo presto Yvette La mia fidanzata Poi Stasera Freak È stato fenomenale La sua eccezionale Prestazione in difesa Vabbè Questa è quella Della volta scorsa Quindi mi ha scritto Solo Yvette Mi manchi Va bene Pure tu mi manchi Comunque Andiamo contro i Brooklyn Adesso E vediamo come va Partiamo Giochiamo la partita E partiamo Contro i Brooklyn Nets Vediamo un po' Speriamo di vincere Anche quest'altra partita Due partite Due vittorie Speriamo Si parte E niente Vediamo un po' Come sempre Le parti migliori Della partita Ed ecco il primo recupero Grande Amendola Grande Amendola Partella grande Passagliela Per Battler Che la butta dentro No È uno struvido Battler Perché non l'hai buttata dentro Grande Passagliela Buono Passa di nuovo di qua Facciamo il gioco di squadra Ragazzi Gioco di squadra Gioco di squadra Dagliela di nuovo Ancora buon passaggio Dalla di nuovo a me Proviamo a inserirci Proviamo a inserirci Ci riesce Ci riesce Grande gioco di squadra Grande gioco di squadra Mamma mia Che gli abbiamo combinato Non hanno capito niente I Nets Non hanno capito proprio niente Passaggio Proviamo a smarcarci Proviamo a smarcarci Dagliela di nuovo Buon passaggio Che fatica da 3 Questo è strupido Allora noi così Perdiamo i punti Ma perché tiri da 3 Con il difensore davanti Con il difensore davanti Le redi passaggi Gli ultimi secondi Gli ultimi secondi Del quarto Proviamo ad entrare Proviamo a buttarci dentro E la butta dentro Grande Doppio movimento A canestro Grandissimo Ormai non ne sbaglio più una Grande Pessima stoppata Perché Perché Pessima stoppata Vabbè Ma finiamo in vantaggio Il primo quarto Grazie a me E vediamo come continua Grande Vinta E si butta di nuovo Dentro No Ah interferenza Dicevo io Che cacchio Mi ha stoppato Invece interferenza A canestro Grande Grande 6 punti Grande Butler è da solo Buttala dentro Buttala dentro Assis Proprio Facile Facile L'hanno lasciato Proprio solo Questi Brooklyn Nets Stanno proprio Dormendo Buon per noi Buon per noi Dalla a me Dalla a me Che sono da solo Vai vai Dagliela al centro Vai Butler Mamma Ma che coppia Jonathan Butler Proprio Intendono alla grande Guarda lì Che schiacciata Che gli ho fatto fare Grandissimo Grandissimo Proviamoci da tre Proviamoci da tre E la butta dentro Grande Sempre con assist Di Butler Grande Io e Butler Grandissimo Perfetta azione Vai andiamo in attacco Andiamo in attacco Corriamo Corriamo Vai Dagliela di lato Di nuovo a Butler Scambiamoci a Butler Bravo di là Vai buttala dentro Buttala dentro Grande tiro No Fatto bene a tirare Ci stava il tiro Però poteva andare meglio Gli ultimi secondi Gli ultimi secondi Dalla a Butler Di là Dalla di nuovo a me Butler Proviamo a buttarci dentro Finta Niente Dalla di nuovo a Butler Dalla di nuovo a me Proviamoci Proviamoci Tiro perfetto Facci dentro No Pazienza Però è stata una buona azione Un buona serie di passaggi Stiamo vincendo Vai verso il titolo Vai verso il titolo Ci vuole ancora tempo ragazzi Credo che finiremo Verso l'estate Quando Poco prima di uscire NBA 2K17 Però intanto faremo carriera E sfide Grande recupero Grande recupero Tagliela Tagliela Vai in avanti Vai in avanti Grande azione Buttatela dentro Mi raccomando Buttate Bravi Bravi Passaggio per assist Grande Grande ancora un recupero Ancora un recupero Ho fatto bene Aumentarlo nei rimbalzi Ho fatto benissimo Benissimo Smarcatevi 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 Vai Dagliela di là Dalla di nuovo a me Dalla di nuovo a me Proviamo a scartare Ad entrare dentro E finta No No Che stupidata Che stupidata Ho fatto fare punto Che stupidata Mannaggia Pensavo che ce la facevo Ad entrare dentro Così Invece mi ha fatto il tiro Medio Grande passaggio Vai Attacchiamo subito Dagliela Di qua Guy Gibson Facciamo il giro Facciamo il giro Facciamo il giro E la buttiamo dentro Grande Ottieni falla E va pure dentro Grande E buttiamo anche il terzo Buttiamo anche il tiro libero Vai che arriviamo a 12 punti Vai che arriviamo a 12 punti Perfetto Mamma mia Con la striscia verde sotto Mamma mia Grande Grande Recupero No Fammela prendere Mannaggia Mannaggia Si è mancato poco Grande per me Oh Come lo dribla Oh Un altro fallo Un altro fallo Benissimo Benissimo Vediamo di buttarli dentro Questi due tiri liberi Vai vai Primo Perfetto Di nuovo Grande Grande Siamo a 13 punti Vai un altro Vai un altro Oh Bene bene Non era perfetto questo qui Ma ci è entrato allo stesso dentro Benissimo Gli ultimi secondi del terzo quarto Vai Vai a mendola Vai Serie di finte Grande Buon passaggio ancora Tagliela di lato Ancora buon passaggio Vai di lato di là Buon passaggio Proviamoci Ora è il momento Ora è il momento E non ci va Non ci va Perché non ci va Porca miseria Stoppalo Stoppalo Non lo fate tirare No 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 L'ho buttata dentro Come cavolo ha fatto Ma porca miseria Vabbè Fa niente È finita Non mi ha fatto entrare più Che bagarospo Vabbè ma abbiamo vinto Credo Spero che abbiamo vinto Sì di due punti Che fortuna Di due punti Di soli due punti Abbiamo vinto Grande Discreto Sempre Soddisfazione dell'allenatore Ci va bene Allora ragazzi Non siamo stati Il Jordan player Della Della giornata Però fa niente 14 punti Due rimbalzi Due assist 9 minuti giocati È andata più che bene Vediamo un po' Cosa dicono Sui social E quali sono Le prossime partite È tutto ragazzi Spero che i gameplay Vi siano piaciuti Cioè Il gameplay Il gameplay Ho fatto due partite Ma è un solo gameplay E Spero che vi sia piaciuto Ragazzi Che dire Ci siamo divertiti Due partite È andata abbastanza bene Due vittorie Due partite Due vittorie Anche se è l'ultima Sul filo del rasoio Vediamo un po' Cosa Se ci sono filmati No Dicevo Che può essere Che ci sono filmati Adesso ci saranno Ehi Squilla il cellulare Che è successo Buona notizia Spalding vuole ingaggiarti E mi ha fatto Una proposta scritta Controlla la tua casella E-mail E fammi sapere Il prima possibile Va bene Feed Vediamo i miei feed Cosa dicono Oh Quattro messaggi Quanti capita di messaggi Allora uno dice Ehi ehi Ci è andata bene Meno male che abbiamo vinto Ma la prossima volta Facciamolo in sicurezza Va bene La vittoria è sempre la benvenuta Comunque venga Grande partita Freak e Bulls Perfetto Allora Quando gli è stato chiesto Un'opinione sulla partita Freak ha risposto Li abbiamo sottovalutati E per poco Non l'abbiamo pagata Abbiamo rischiato troppo E' vero E' vero Giusto per due punti Ora i Bulls Sembrano in gran forma Ancora più dopo La vittoria di stasera Tutti hanno dato Il proprio contributo Freak per primo Grande Iniziano ad avere Ad avere tanti commenti buoni Freak Spero tu sia pronto per noi Sarà un incontro combattuto Ma alla fine vinceremo noi Ah Mi ha fatto la sfida Oh abbiamo due giorni liberi La prossima volta E poi dobbiamo andare Contro i Philadelphia Vediamo Ah dobbiamo Abbiamo ancora Cosa di sponsorizzazione Da fare Dobbiamo fare altri due giorni Vabbè vediamo La Spalding Che dice Posso vedere Come Spal Sponsorizzazione Ecco qua Allora Offerta da Spalding I pezzi grossi di Spalding Sono ansiosi di lavorare Con dei Freak Offro un convenzo Di 750 Per la tua partecipazione A due loro eventi Nei prossimi due giorni liberi No Dovrei consumare Tutti i due giorni liberi Per loro E io devo Devo fare ancora L'altro Devo rifiutare Per forza E purtroppo Ragazzi Quest'altro qui Ebbene solo 100 Non ne ho rifiuta E purtroppo Dobbiamo dovuto Rifiutare Ragazzi Vabbè Questo era il gameplay Ragazzi Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Cliccate un bell Mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook Degli Amendola Brothers Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al nostro canale Se non siete iscritti Per tanti video Tanti gameplay Di NBA Di PES Pronostici del Napoli Tante belle cose Siamo anche su Instagram Su As Cascateci e followateci Come dice Salvatore Abbiamo anche Abbiamo creato anche Un gruppo su Telegram Quindi andate su Telegram Cercate Amendola Brothers E iscrivetevi lì Per il momento Siamo solo due membri Perché Nessuno Non l'ho detto a nessuno Non l'abbiamo detto a nessuno E l'ho appena creato Quindi inseritevi in Telegram Che magari Così vi tenete ancora Sempre più aggiornati Sul nostro canale Su quello che Facciamo con il nostro canale Gameplay Video Diretta eccetera E niente più ragazzi Poi può capitare Che il gameplay Non vi sia piaciuto Sempre capitare Che il gameplay Non vi sia piaciuto Se per caso Non vi è piaciuto Da parte Della mitica coppia Jonathan Butler Grazie ragazzi Da Jonathan Amendola Io Amendola Brothers Al prossimo video Ciao Ciao a l'anio 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 Ciao a l'anio